Se state riscontrando problemi all'apertura dell'applicazione, nel senso che l'app non può essere aperta, quindi in questo caso state cercando di aprire Call of Duty Black Ops 6, ma dice che non c'è nessuna app all'avvio, quindi non si può aprire niente, quindi cerca nel Microsoft Store. Quindi in questo caso puoi andare semplicemente su applicazioni, installazione applicazioni, quindi scendi fino a giù fino a trovare Call of Duty ed eccolo qua, tre puntini, opzioni avanzate. In questo caso scendi fino a giù fino a trovare Interrumpi, quindi termina immediatamente quest'app e i relativi processi, quindi se tu hai cliccato sull'applicazione sicuramente sei avviata in gestione attività, quindi devi fare Interrumpi. Una volta fatto scendi fino a giù fino a trovare Reimposta, quindi ripristina così l'applicazione e poi passi. Se quest'app non funziona ancora correttamente è necessario reimpostarla, quindi i dati dell'app verranno eliminati, quindi in questo caso devi rifare il login, quindi metti le tue credenziali e accedi al tuo Call of Duty e fai Reimposta. Se non dovesse funzionare del tutto puoi semplicemente andare su Disinstalla e reinstalli così l'applicazione su Xbox oppure Steam, quindi in questo caso vado su Xbox. La mia raccolta è la mia raccolta, Call of Duty ed eccolo qua, tre puntini, gestisci, file, verifica e ripristina. Ci clicchi sopra e fai la verifica, se no puoi fare direttamente qua, sul tuo profilo qua, supporto, strumento di ripristino, avvia ripristino. Facciamo chiudi, chiudiamo l'applicazione Xbox e riavvia il tuo sistema. Prima di avviare il gioco, quindi in questo caso per altri problemi ancora puoi guardare la playlist completa di tutti gli errori di Call of Duty e su come risolvere i problemi. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.